Particle generation è un rollout nel quale troviamo tutti i parametri utili per poter definire il numero, la dimensione, il tempo, il movimento e la vita delle particles. Naturalmente questi valori sono espressi in base all'unità di misura e del tempo, quindi in base al frame rate. In particle quantitative possiamo scegliere tra due opzioni di emissione, se use rate, quindi con la creazione di 10 particelle come di default o anche superiori, in base al frame rate utilizzato, o use total, cioè l'utilizzo di 100 particelle come di default o anche superiori, totali per tutta la durata di emissione. Voglio porvi un semplice esempio per capire la differenza tra i due. Mettiamo a caso di avere un emettitore che genera particles dal frame 0 al frame 100 e che stiamo utilizzando un frame rate di tipologia film, quindi con 24 frame per seconds. Apriamo la calcolatrice così possiamo effettuare i calcoli anche assieme. Se utilizzo la tipologia use rate con un valore di 10, alla fine io avrò un totale di 41,66 particles totali. Questo perché ogni 24 frame verranno generate 10 particles, quindi frame rate totali 100 diviso il frame rate 24 uguale 4,1666 periodico per 10 per il numero di particelle che io avrò. quindi uguale 41,66. Questo vuol dire che io in totale avrò 41,66 particles. Se invece utilizzo use total pari a 100, ogni frame avrà la generazione di una particles, anche se avrò 4,166 particles ogni 24 frame, quindi lo stesso identico numero a prima, ma è puramente una casualità, ma avrò un risultato sicuramente differente. In base alle situazioni posso scegliere se utilizzare una tipologia o un'altra. Il gruppo particle motion definisce, come era per gli altri emettitori precedenti, il comportamento in base alla velocità, alla variazione, quindi anche sia la variazione che è espressa in percentuale, sia verso l'esterno che all'interno, la rotazione tramite il tumbler, il tumbler rate, anche esso va a definire una variazione, mentre il particle timing definisce il tempo di emissione. Emit start sarà il primo frame dal quale verranno generate le particles, emit stop è l'ultimo frame dove l'emettitore smetterà di generare particles, ma non è detto che esse possono esistere oltre tale frame. Display unit, di default è 100, ma si può regolare in base alla timeline, questo consente di andare a visualizzare le particles sulla linea temporale, quindi di vederle in viewport. Questo non è detto che se le particles non sono visibili in viewport non siano visibili neanche in fase di rendering. Life invece definisce la vita di ogni singola particella, naturalmente si definisce in base alla tipologia di emissione, se use rate o use total. Ad esempio, una particella che viene generata dal frame 0 avrà vita fino al frame 30 e quindi sarà visibile e renderizzabile fino a tal momento, mentre una particles che è generata al frame 11 avrà vita fino al frame 41 e così via. Variation agisce, in questo caso non in percentuale ma sul frame, sulla vita delle particles, quindi possiamo avere un'alterazione durante il tempo in maniera random, in maniera casuale naturalmente. Il subframe sampling è un campionamento che viene fatto a livello di sotto frame, cioè il frame viene diviso, come ben conosciamo, viene diviso in altre piccole frazioni e questa analisi può essere correlata, può essere collegata a varie tipologie, quindi in base alla creazione del time, alle traslazioni dell'emettitore, alle rotazioni dell'emettitore. Sarà comunque un concetto che sarà ripreso quando andremo ad affrontare degli esempi, degli esempi pratici. Tutti questi parametri si possono spiegare in maniera molto più semplice sicuramente con degli esempi, o saranno sicuramente più chiari con degli esempi. Mentre il particle size, naturalmente, va a definire le caratteristiche in base alla dimensione. Abbiamo il size, che definisce la dimensione delle particelle utilizzate, in base naturalmente all'unità di misura, se metri, centimetri, chilometri e così via. La variazione applicata in maniera casuale, una variazione della dimensione, espressa naturalmente in percentuale. Quindi potremmo avere delle particles, per esempio, se io vado a impostare un parametro come per esempio 50, un 50% delle mie particles, in maniera random, saranno magari di dimensione più piccola rispetto a 1 o più grande rispetto a 1. Poi abbiamo il Grove, 4 e il Fade, 4. Naturalmente sono delle tipologie, queste qui sono di crescita verso e di riduzione verso. Anche se vengono definite in base a un valore di frame, quindi un valore temporale, e si possono ingrandire oppure ne impicciolire nello scorrore del tempo. Uniquest. Questo parametro è un po' particolare. Esso serve per definire una disposizione casuale delle particles. Cliccando su New abbiamo la possibilità di andare a variare il valore del seed. Il seed è come sono disposte le mie particles all'interno della scena, quindi all'interno dell'emettitore o come nascono dall'emettitore. Questo parametro è molto utile nel caso in cui volessimo realizzare una copia dell'emettitore con diversa tipologia di emissione, a livello di flussi, posizioni delle particles. Quindi se io volessi andare a creare una copia del Blizzard, posso avere due emettitori e regolare sicuramente a uno una tipologia di posizione e l'altro un'altra. Questo valore è randomatico, quindi viene creato tramite una matrice random, generata all'interno di 3DX Max in automatico. Possiamo anche assegnare dei valori manualmente.